Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessila News. Oggi abbiamo il piacere di presentarvi una novità super scintillante che renderà uniche le vostre creazioni. Immaginate una piccola box con tanti scomparti pieni di piccoli tesori. Di cosa sto parlando? Si tratta di perline. E se vi dicessi che addirittura sono cucibili, andiamo a scoprirle insieme. E allora andiamo insieme alla scoperta della nostra box di perline. Eccola qui, si presenta suddivisa in dieci scomparti, ognuno dei quali accoglie all'incirca 20 perline. In ogni scomparto possiamo trovare una forma differente, dalla goccia arrivando al fiore, passando per il cubo, la farfalla e la piramide. Diverse forme e diverse sfaccettature che quindi creano diversi giochi di luce. Le perline che troverete all'interno della box saranno tutte dello stesso colore, ma avranno misure che variano, quindi a seconda della forma scelta, partendo dai 15 mm fino ad arrivare ai tre all'incirca. Il diametro del foro rimane invece sempre invariato, ovvero di circa un millimetro. Quindi perfette da utilizzare sia come decorazione per capi d'abbigliamento, ma anche per bijoux. Grazie ai comodi scomparti tenerle sempre in ordine ed organizzate sarà facilissimo. E poi la box presenta questa praticissima chiusura a scatto. Le perline sono in resina dall'effetto molto luminoso. Quella che abbiamo visto è solo una delle colorazioni disponibili. Pronti a scoprire le altre? Come abbiamo visto sono davvero diverse forme che vi permetteranno di creare tantissimi giochi di luci e di sbizzarrirvi con le varie decorazioni. Potrete magari decorare i vostri accessori, pensate magari al cappellino, a dei guanti o ad una sciarpa. Perché no? Anche per una camicetta, magari sui polsini o sul colletto, in abbinamento con Illumina, per creare dei bijoux che avranno uno stile davvero unico grazie alle varie sfaccettature delle perline. E che dire poi della box? Potrete avere tutte le vostre perline sempre in ordine, suddivise per le varie forme, sicuramente non c'è il rischio di perderle. Insomma, non vi resta davvero che scegliere la box che preferite e dare il via alle vostre creazioni. Io vi aspetto al prossimo Tessila News, ma prima vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social, la pagina Facebook Meio di Maya, ma anche il nostro gruppo Facebook ufficiale, la pagina Instagram, TikTok, Pinterest e sul nostro blog, dove ogni settimana ci sono tantissime novità e curiosità. Al prossimo Tessila News!